Grazie. Questo pezzo invece ci tengo a dedicarlo a tutte le persone che con me faranno questo lungo viaggio che è appunto di scuola. La mia Brown Crew, la mia famiglia, persone che lavorano con l'ombra senza animismi, persone che credono tanto in me e che mi stanno dando una mano a realizzare tutto quello che vorrei fare. E' per me una cosa importante perché questa è una cosa che dovremmo avere tutti, tutti, ognuno di noi dovrebbe avere delle persone che credono in noi stessi perché fa bene. Perché quando la persona crede in te ti spinge a fare sempre qualcosa di più, è lì che comincia a crescere, è lì che comincia a capire come davvero girano le cose. Quindi io vi auguro nella vita di incontrare persone speciali, così come le ho incontrate io, finalmente, dopo tanti disastri. Sono arrivati loro e mi hanno aiutato ad essere l'artista di oggi. Quindi un grazie di cuore a Mario Zappa, Ugo Trimpesta, Mammo Pozzoli, Umberto Polidoro, Michele Garro, Maurizio Magliotti, Maurizietto, Simone Vitaliani, Domenico Polangelo, Damiano Pellegrino, Dave Giannoni, La Lollo, Pierpaolo Bardelli, Martino Sera, Marco Silvaggi. Grazie a Francesco Carvelli e a tutti gli amici di FP, il grande boss Ferdinando Salsano, Barbara Zaggia, Veronica Corbro, Laura Battista, la mamma Giovanna Salvatori. Un grazie alla mia casa discografica, al mio presidente Alessandro Massara, Graziano Stuni e a tutti gli amici di Universal. e per ultima, ma non per ultima, con lei che si subisce la parte migliore, ma anche quella peggiore di me, perché esiste. Vai! Piangi, piangi! Grazie, infinite, alla mia manager, a mia sorella, alla mia migliore amica, alla compagna di viaggio più importante, allo scudo della mia vita, Francesca Savini. Grazie! Grazie!